Ciao amici di MyFastbook, oggi 5 aprile 2016 esce il libro di Valeria Montaldi La Randagia, edito da PM. Ci troviamo nel 1494, nella vecchia casupola nidata fra i boschi di Makod vive sola Britta da Johannes, una giovane e bellissima donna. Sebbene siano in molti a ricevere beneficio dai suoi rimedi erboristici, Britta suscita paura. La sua solitudine è alleviata dal legame appassionato e furtivo con il figlio del castellano. Quando un doloroso avvenimento mette fine alla loro storia d'amore, per Britta comincia la terribile discesa all'inferno. Maldicenze e calunnie si accumulano contro di lei fino ad arrivare alle orecchie dell'inquisitore. Il giudizio finale è inappellabile, Britta è una strega e il suo destino è il rogo. Ora invece ci troviamo nel 2014, è un gelido mattino di novembre quando Barbara Pallavicini, studiosa di medievistica, raggiunge le rovine del castello di Saint-Jacques-Houbois. Lì troverà l'ultimo tassello della sua ricerca, l'iscrizione lasciata da una donna condannata per stregoneria. Nella penombra del sotterraneo gli occhi di Barbara incontra quelli spenti di un cadavere. Atterrita chiama i carabinieri. Giovanni Randisi, maresciallo del comando di Aosta, identifica la vittima. È una ragazza del luogo, ossessionata da molte storie di demoni e malefici. Le indagini in lotta contro il tempo diventano ancora più affannose quando si viene a sapere che la migliore amica della vittima è misteriosamente scomparsa. E le domande nascono spontanee. Perché una ragazza dedita all'occulto è stata uccisa fra le stesse mura che 500 anni prima avevano imprigionato una strega? E se la soluzione dell'enigma affondasse le radici proprio in quel lontano passato? Wow, che suspense! Bellissimo! Beh, credo che bisognerà soltanto leggerlo per sapere come va a finire. Buona lettura!